Le aeree vetrate di Porta Nuova dicono che siamo a Torino e i nomi delle città del Piemonte dicono la provenienza di questa folla. I cancelli dell'ex palazzo reale funzionano da palchi e da galleria, gli ardimentosi cavalcano i destrieri dei Dioscuri. Dal palazzo del governo dove ha ricevuto le autorità, De Gasperi attraversa il festoso saluto della folla e tra il garire delle bandiere raggiunge la tribuna. De Gasperi dopo aver ricordato le ore decisive scoccate un secolo fa nella vita politica del nostro paese ha detto se fallisce il piano di collaborazione europea con l'aiuto americano nessuno in Italia potrebbe garantire il pane ai lavoratori, le materie prime alle industrie. Per questo, a concluso, chiamiamo il popolo a reagire con l'unica arma pacifica che esiste, il voto. Elettore, non sprecare il tuo voto.